Ciao, mi chiamo Francesca Anzalone, sono PR Manager e Digital Specialist. Oggi vorrei parlarti della mia ultima pubblicazione, Ufficio Stampa e Digital PR, la nuova comunicazione. Un volume pensato per imprenditori, manager, professionisti, ma anche pubblica amministrazione, agenzie di comunicazione e uffici stampa. E naturalmente vorrei raccontarvi quello che contiene. Grazie a tutti.